Vediamo, vediamo in questo video 25 segni inequivocabili che ha una cotta segreta e potresti essere tu, non perdere la tua occasione. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E veniamo dunque al tema 25 segni inequivocabili che ha una cotta segreta e potresti essere tu, non perdere la tua occasione. Allora, se vuoi capire se una donna, diciamo, è coinvolta con te, questo conviene saperlo ovviamente anche da micro segnali, micro espressioni o da micro atteggiamenti perché ovviamente tu acquisisci potere, sai anche, come dire, come spingere sull'acceleratore, sapere quali sono le cose che la coinvolgono di più, quali sono le cose che la coinvolgono di meno e questo fa sì che tu possa migliorare drasticamente, diciamo così, la tua capacità persuasiva, drasticamente la tua capacità seduttiva e poterti, come dire, sedurre più donne contemporaneamente. Anche perché quando una sai che ha una cotta potresti anche, diciamo, mettere un po' in competizione con qualcun'altra per aumentare il tuo potere seduttivo, per aumentare le tue capacità di seduzione. Quindi questo è sempre fondamentale. Allora, come segnali ce ne sono tantissimi, ne vediamo qua 25 che sono segni inequivocabili che ha una cotta e potresti essere tu ovviamente se questi segnali sono rivolti a te, ovviamente, perché poi se sono rivolti a qualcun altro ovviamente la cotta ce l'ha per qualcun altro. Allora, la prima cosa fondamentale è che ride alle tue battute, anche battute stupide. Qui potresti fare un test, dire cose, diciamo, che oggettivamente non è che sono molto ironiche ma se vedi che lei ride, che lei, come dire, è allegra è perché proprio l'allegria è nello star con te e quindi vale sempre detto qua, donna che ride e mutanda che cala. Però in questo caso, quando lei è coinvolta con te, insomma, da tutta una serie di segnali che fanno sì che questa persona sia coinvolta, fanno sì che questa persona sia innamorata beh, allora questo è un qualcosa di molto importante, un qualcosa di fondamentale perché se si riesce, diciamo, a ottenere questo risultato beh, non è una cosa da poco insomma, è molto importante questo per poter affrontare, diciamo, al meglio la situazione per poter raggiungere oggettivamente dei risultati quindi io ti suggerisco di seguire, diciamo, queste indicazioni perché sono veramente fondamentali per te quindi la seconda cosa è se scherza con te cerca di prenderti un po' in giro quindi cerca di prenderti in giro insomma, in qualche modo è un indicatore forte comunque di interesse perché altrimenti sarebbe indifferente nei tuoi confronti quindi non prenderlo come un indicatore di disinteresse quando una donna ti prende un po' in giro, scherza, fa battute è perché ha una cotta per te ovviamente ti è fisicamente vicina sta a contatto con te questa è un'altra cosa fondamentale va alla ricerca del contatto fisico magari anche casuale magari scontrandoti con il ginocchio e i stessi istituti vicini oppure sfiorando la tua mano toccandoti il braccio insomma, tutti i movimenti che indicano un contatto fisico altro segnale è il mirroring rispecchia un po' i tuoi movimenti ti ricalca questo che lo faccio inconsapevolmente che lo faccio deliberatamente perché magari ho imparato che ricalcare vuol dire coinvolgere ma se io voglio coinvolgere qualcuno è perché sono già coinvolto quindi in ogni caso è molto importante diciamo questa cosa questo segnale è molto importante altro segnale fa sforzi extra per avere un bel aspetto per essere più sexy per essere più sensuale quando è con te quindi si mette in tiro come si dice insomma in gergo segnale importante arrossisce quando è vicino a te vuol dire che le stai dando emozioni un altro segnale che devi prendere in considerazione che fa molte domande personali soprattutto cerca la tua vita sentimentale affettiva vuol capire se tu hai qualche situazione come sei messo sentimentalmente questo è molto importante altro segnale dà segnali contrastanti quando magari tu ti allontani vedi che sbotta perché scarica tensione diciamo quindi quando tu magari non la prendi in considerazione non è noti che dei piccoli segnali di rabbia questo è fondamentale altro segnale trova motivi quindi delle scuse diciamo comunque dei motivi per parlare con te per avere una conversazione con te e poi un altro segnale che ti aggiunge su tutti i social media cioè ci tiene al fatto che tu la segui su Instagram che tu la segui su Facebook YouTube Twitter TikTok cazzi e mazzi insomma ti aggiunge su tutti i social media altro segnale se sei in un in un gruppo ad esempio cerca di isolarti cerca di isolarsi con te cerca di passare del tempo da sola con te ti manda dei messaggi ti risponde subito ai messaggi ti manda lunghi messaggi ti dà dei segnali di gradimento emozionali toccandosi le labbra accarezzandosi i capelli guardandoti negli occhi quando è vicino a te sono tutti segnali fondamentali noti poi se guardi gli occhi un aumento del battito delle ciglia quando le parli e se guardi attentamente cerca di si noterai anche una dilatazione una midriasi dilatazione delle pupille stesse e poi cerca di prolungare le conversazioni cerca di portare avanti le conversazioni devi essere sempre tu a chiudere magari la comunicazione perché lei continuerebbe a parlare con te si offre di aiutarti se hai bisogno quindi anche qua con delle scuse per passare del tempo con te ti fa qualche complimento su qualcosa sulla giacca su qualche cosa se tu fai qualcosa lei dice di avere degli interessi simili ai tuoi vuole diciamo magari che ne so ti chiede in prestito qualcosa se poi magari che ha freddo ti chiede poi la giacca insomma qualcosa di questo genere cerca di capire se tu di agganciarti magari ti dice ah l'estate prossima vado in Sardegna per dire se hai mai stato ti piacerebbe oppure se hai una casa da qualche parte dai se vieni in vacanza ti voglio ospitare insomma tutti i segnali di questo genere cerca sempre di se tu le scrivi un messaggio risponderti immediatamente a una velocità di risposta molto rapida guarda le tue storie tutti i segnali molto importanti e poi un altro segnale molto attento a quello che dici si ricorda i dettagli delle cose che dici ti guarda anche quando tu non la guardi e se noti il suo piede quando siete magari in gruppo spunta spesso nei tuoi confronti ecco questi sono segni inequivocabili che questa donna ha una cotta segreta e quella cotta segreta sei tu non perdere quindi la tua occasione cerca di sfruttare al meglio tutto questo per questo video è tutto seguimi su Instagram Massimo Tramasco ufficiale su TikTok e su tutti i miei canali YouTube e mi raccomando abbonati al canale se vuoi sedurre se vuoi imparare a sedurre